Si parla nel nostro paese di distretto industriale quando si ha a che fare con un sistema produttivo del tutto particolare, rappresentato da un insieme di imprese, tipicamente di piccola e media dimensione, con un'elevata specializzazione produttiva che svolgono attività tra loro fortemente integrate e sono localizzate in un determinato territorio, detto appunto distretto. L'elevata capacità tecnologica che hanno queste singole aziende che fanno parte di questo distretto, assieme alla loro vocazione verso l'innovazione per essere sempre concorrenziali sul mercato, ha fatto di questo distretto, fatto da tante piccole imprese, un vero gigante per quanto riguarda l'attività produttiva e soprattutto avendo dei mercati di riferimento particolari. L'elemento vincente di questo distretto è appunto la forte specializzazione tra queste imprese che fanno pezzi di un prodotto finito che poi sarà di altissima qualità. Ecco, i distretti industriali in qualche modo hanno caratterizzato sempre quello che individe il cosiddetto Made in Italy. Infatti se uno pensa dove sono localizzati i distretti industriali nel nostro paese, potremmo dire che sono un po' su tutto il territorio nazionale, ma prevalentemente sono localizzati nell'area del nord-est e del centro-nord d'Italia. Tanto per dare un esempio possiamo riconoscere dei distretti molto particolari come quello della ceramica tra Sassuolo e Faenza, pensiamo al distretto Orofo tra Vicenza e Valenza, oppure per la parte biomedicale in Mirandola e nelle Miglia o l'Ottica, Belluno. Ecco, quindi si tratta di aree dove tante piccole aziende si sono messe insieme per sfruttare tutta una serie di sinergie e dar vita quindi a dei prodotti di altissima qualità dove ognuno fa un pezzettino estremamente qualificato.